Verifiche lungo la statale 115 nella zona di Montelungo per fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause dello schianto mortale, che a gennaio costò la vita a crocifisso Emanuello, 37 anni, di Gela. La sua Nissan Micra, come si ricorderà, impattò violentemente contro un bus extraurbano che viaggiava in direzione di Licata. L'ingegnere Girolamo Vitellaro, perito nominato dai magistrati della Procura che hanno avviato un'indagine su cui fatti, insieme ai tecnici di parte scelti dalla famiglia della vittima e dal conducente del bus, hanno effettuato i rilievi lungo il tratto stradale, diventato teatro, del terribile schianto. Gli accertamenti comunque potrebbero essere ripetuti anche nelle prossime settimane. L'attenzione dei periti si è spostata sulla Micra guidata dal 37enne, accertamenti sono stati effettuati sulla vettura. Non è stato possibile invece periziare l'autobus che verrà sottoposto ai rilievi nei prossimi giorni. Allo stato attuale la famiglia di Crucifisso Emanuello ha scelto di farsi rappresentare dagli avvocati Giuseppe Donegani ed Emanuele Maganucco. Il conducente del mezzo invece è difeso dall'avvocato Carmelo Tuccio.